ecco la più bella la più grande ciao i più belli oh i più belli stronti alzare il più bello Silvana vuoi prendere un po' te? si allora guarda poi Damini riprendi te un po' vai prendi inserisci il bacio destro qua inserisci il bacio destro qua non fa prendi di male muovi lentamente che brutto in questo momento sta riprendendo Giuliana ciao ci riesci si ma che sta riprendendo? scusa ma Ivano ma sta riprendendo si stai riprendendo ma sta riprendendo devi scrivere tante rosse no? quale? questo? no 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 stai riprendendo stai riprendendo sta scritto orecchie in alto a destra no? si allora stai riprendendo la tua anima vai dai questo sta io faccio la bellezza se si guarda le due le due don a me fa male gli occhi chi lo vuole fa vada 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 vado dai vado più al bacione ne vado lo fai io no c'è giù lo fa tutto si 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 e ti sento muove lentamente manovì no, si uccide si troppo non tolgo io non ho legito questo amore e amore via qua sull'ancio lo scappi dai va aspetta lo scappare sull'ancio vabbè veniamo poi riprende pure te io vado giù stai notando l'aspetto questo è l'aspetto serio normale bamboccio che c'hai? non lo prende poi riprende un po' te poi riprende un po' te sai che poi abbiamo una visuale bassa mi fa male mi fa male vieni riprendi l'ancio riprendi l'ancio un assassino non stappate l'audio arriva io non fai il cuore a me non fai il cuore a me no aspetta sorridi sorridi alla stampa sorridi sorridi alla stampa no tu è meglio non sorridi con quella caverna in bocca e vieni la bocca chiusa oh non vi avvicinate oh state tornando tutto sono assassino guarda che carica Gabriele come si fa a fermare questa cosa? è pulsante alcolico questo questo Teresa signora e qui abbiamo Riccardo sempre vicino a adesso sto pensando cosa fa guarda 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 Il latte... Dai... Ma dai... Ma non è lei! Adesso è un errore che devo tirare più avanti! Lui è qui amore? Basta mamma! dopo ce ne sono anche l'altra mariniero sono stato in sottomarina ma non sono entrato non 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 Prendi giù Clara che c'è la campana. Eh, sto andando. Clara! Dove sei? Qua. Vado? Ciao! Adoro hai la campana. Ciao Ivano, come stai? Mi fa male. Ti piace qua? Facciamo tutte e due e rimpiamo, no? Bello. Bello. Ma vado, ti piace? Ma perché non lo ha tutto qua? Eh, Ivano. Questa è una piccola chiesa dove siamo avventurati. Questa è una piccola chiesa dove dobbiamo fare una messa e poi ritorniamo. Qua ci sono tante more, sono buone. Vabbè, non c'è quasi un sindacal! Non c'è se mi ha conto? Allora. Vabbè, non c'è se mi avviene. Vabbè, non c'è se mi avviciniamo. Non c'è se mi avviciniamo di fare una' … Salutiamo tutti! Salutiamo, ciao! Salutiamo! Ecco, vanno. Siamo a Roscello qua, è a Roscello, casa famiglia Lodonico Pavoni, Roma, Roma International, Roscello 3, 3 come la Roma, dai dite queste cose, non ci va in cielo, non ci va in cielo, in penifarina, perché in cielo, perché in cielo. Non ce la benzina, non ci va in cielo, in penifarina, perché in cielo non ce la benzina, aiiao, aiiao, aiiao. Salutiamo! Andiamo verso la macchina, andiamo verso la macchina e salutiamo, ciao, ciao, saluta, e poi vieni dietro, salutatevi dietro, salutatevi dietro, non che la macchina mangi dall'avanti. Non con la mano davanti, salutatevi, 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 ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti.